Questo è il canale delle missioni cristiane internazionali avventisti del settimo giorno Movimento di Riforma. Ricorda di seguire la nostra programmazione tutti i giovedì alle 19, il venerdì alle 20 e 30, il sabato alle 11 e 15 e la domenica alle 16. Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video. Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com dove troverai ulteriori contenuti e tutto e tutte le informazioni per contattarci. Grazie e buona visione. In quanti modi Dio comunica con l'uomo? In quante maniere Dio ha parlato in passato all'uomo e ancora oggi parla all'uomo? Dio ha parlato in passato tramite i patriarchi? Ha parlato tramite i profeti? Ha parlato tramite gli apostoli? Ha parlato tramite la Sacra Scrittura? Ancora oggi comunica con noi attraverso la Sacra Scrittura? Ha parlato attraverso le visioni? Ha parlato attraverso le profezie? Ha parlato e parla attraverso la Chiesa? Dio ci parla anche attraverso la natura? Dio parla attraverso la coscienza? E quante altre cose possiamo aggiungere? Dio parla anche attraverso oggetti? Attraverso simboli? Attraverso i riti? Attraverso i sacrifici? In quante maniere Dio parla all'uomo? Oggi parliamo del santuario. Abbiamo detto nella scuola del sabato che il santuario è la casa di Dio. Abbiamo detto che il santuario è il luogo del riscatto, il luogo del perdono. Abbiamo detto che anche l'incontro è il luogo dell'incontro, dell'unità. È il luogo della preghiera. Ma il santuario ha anche che cosa? È lo strumento pedagogico. Che Dio si serve per parlare all'uomo. Era il desiderio di Dio che potesse dimorare in mezzo al suo popolo. Ma non solo dimorare, ma anche comunicare col popolo. E Dio attraverso il santuario voleva che il suo popolo venisse educato, istruito, quello che riguarda il piano di redenzione. Si è parlato dell'ordine che c'era intorno al santuario, il rispetto che c'era per quel luogo, la devozione. E il popolo istruiva i propri figli riguardo all'ordine del santuario. Quello che loro dovevano ricevere come insegnamento riguardo al santuario. Gesù nella Bibbia viene definito l'antitipo. Che cos'è l'antitipo? Nella voce biblica indica una cosa profeticamente raffigurata da un avvenimento anteriore. Cioè una figura che deve rappresentare poi la realtà. E Gesù viene definito l'antitipo. Cioè la realtà di quello che era la figura che lo annunciava. Per essere pratici, ad esempio, quando noi troviamo in Giovanni al capitolo 3 al versetto 14, Gesù che parla con Nicodemo, il dottore della legge, Gesù gli indica una figura che Mosè aveva innalzato nel deserto. Il tipo, cioè il serpente di rame. E quella figura che cosa rappresentava? L'antitipo, cioè Gesù che doveva essere innalzato. Ecco che allora il tipo annuncia Gesù che è l'antitipo. Oppure il sacrificio, l'agnello immolato. Il tipo che annuncia Gesù che è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ecco, questi sono i simboli, le figure che Dio si serve per comunicare, per parlare ad ognuno di noi. Oppure anche la figura di Giona, tipo, che annuncia la sepoltura di Gesù nel sepolcro per tergioni, cioè l'antitipo. Oppure in Giovanni al capitolo 6 troviamo la manna, tipo, che annuncia Gesù che è il pane della vita, cioè l'antitipo. Ecco, questo è il linguaggio di Dio. Questi sono i simboli, le figure che Dio annuncia. Ecco, io non sono un bravo disegnatore, ho cercato di fare il mio meglio. Ecco, ho detto prima che il santuario è uno strumento pedagogico, cioè che trasmette un insegnamento. Quindi questo strumento, il santuario, era composto da un atrio, cioè il cortile, che rappresenta il luogo della riconciliazione. Il luogo della riconciliazione. Poi, all'interno dell'atrio c'era il tabernacolo, che era composto in due fasi. La prima era il luogo santo, il luogo della santificazione, e il luogo santissimo, il luogo del giudizio e della glorificazione. Questa era la composizione del santuario. Quindi Dio poteva anche dire a Mosè, vabbè, fammi semplicemente un edificio, una casa, e io vi abiterò. No, miei cari, Dio gli aveva detto a Mosè di costruire il santuario, ma con dei particolari, cioè l'architetto doveva essere progettato da Dio. Quindi Mosè doveva semplicemente vedere il modello che Dio gli aveva mostrato. perché poi Dio attraverso questo luogo doveva trasmettere un'educazione, un insegnamento al popolo di Israele. Quindi, questa era la composizione del santuario. E questo santuario, è vero che era al centro dell'accampamento, ma gli israeliti che si accampavano intorno al santuario, non è che si accampavano lì vicino, c'era una certa distanza dal santuario, ed era circa un chilometro la distanza. Quindi, questo luogo era il centro, e coloro che si accampavano intorno dovevano stare a meno un chilometro. Questa era la distanza che praticamente dovevano loro rispettare. Cosa c'era nell'atrio? Nell'atrio troviamo la porta e la porta le misure di quello che era gli insegnamenti che trasmetteva questo luogo. Ad esempio, in Esodo, al capitolo 27, noi troviamo le misure della porta. Il santuario aveva una sola porta, questa qui, e le misure parlano che era una porta spaziosa, sapete, di quanti metri? Circa nove metri. Una porta spaziosa di nove metri. Io credo che nel mondo non esista nessuno così grosso che non riesce a passare attraverso questa porta. Quindi, significa che questa porta era larga, che tutti potevano accedere attraverso questa porta. E in Esodo sempre ci parla come era composta questa porta, non solo la lunghezza, la larghezza, ma anche che era con quattro colonne. Perché quattro? Il quattro, come anche il sette, come altri numeri nella Bibbia, raffigurano sempre il numero della perfezione. Quattro sono gli Evangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Quattro sono i punti cardinali. Quindi, da tutte le parti del mondo potevano accedere in questo luogo. Ma questa porta, che cosa raffigura? La figura di questa porta. in Giovanni al capitolo 10 al versetto 9 Gesù si identifica come la porta e dice che attraverso questa porta chiunque può entrare. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà la pastura. Ecco che allora il tipo annuncia l'antitipo, cioè Cristo che è la realizzazione della salvezza. Che attraverso Cristo, solo attraverso di Lui c'è salvezza. Al di fuori di Cristo non c'è salvezza. Possiamo entrare in tutte le porte che vogliamo, miei cari fratelli, miei cari sorelle. Ma se non entriamo attraverso Cristo non troveremo pastura, non troveremo salvezza. Ci sono tante porte in questo mondo che annunciano Cristo, ma una è la porta, è Cristo Gesù. E ancora in prima Timotio al capitolo 2 versetto 3 versetto 4 un altro insegnamento che ci dà la porta è quello del desiderio di Dio. Qual è il desiderio di Dio verso non l'uomo verso l'umanità? Apostolo Paolo parlando della salvezza dice il quale vuole che tutti gli uomini il quale chi il quale Cristo Gesù il desiderio di Cristo Gesù è il desiderio di Dio e qual è il desiderio di Dio? Che attraverso questa porta cioè Cristo Gesù tutti gli uomini possono essere salvati Gesù non esclude nessuno dalla salvezza il piano di rilenzione è sufficiente per abbracciare tutta l'umanità tutta l'umanità e allora l'insegnamento che Dio dava al suo popolo che attraverso Cristo Gesù tutti possono accedere alla salvezza guardate non esiste peccato che Dio non possa perdonare non esiste peccato che Dio non possa perdonare uno solo è il peccato che Dio non possa perdonare ma quello non ci interessa la bestemmia contro lo Spirito Santo del resto tutti i peccati se confessati al Signore possono essere perdonati quindi questo è l'insegnamento che poteva ricevere come prima cosa colui che valcava quella porta miei cari dove stiamo cercando noi la salvezza la stiamo cercando in Cristo Gesù Gesù è la porta che noi stiamo usando per il cielo oltre alla porta c'era quello che è chiamato l'altare del sacrificio non trovo eccolo qua l'ho trovato scusate se faccio il disegnino ma non sono ecco qui praticamente c'era l'altare dove veniva praticamente offerto l'olocausto in esodo al capitolo 27 versetti che vanno dall'1 all'8 ci sono le misure il materiale di come era composto e così via non lo leggiamo per tempo e passiamo subito a capire l'insegnamento dell'altare ecco qual è la figura dell'altare o meglio i sacrifici che venivano offerti su questo altare chi rappresentano Giovanni capitolo 1 versetto 29 quando Gesù stava scendendo nel Giordano per essere battezzato Giovanni Battista vedendo Gesù che andava incontro a lui annunciò Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo abbiamo detto che il popolo provava il perdono si è parlato del perdono il prezzo del perdono il riscatto cioè praticamente io tu per essere perdonato abbiamo bisogno di colui che si è sacrificato al posto nostro e il prezzo del riscatto era Cristo Gesù ecco che l'antitipo adempie la figura che lo annunciava Cristo Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo in ebrei al capitolo 2 al versetto 9 l'autore di questa epistola deve dire Gesù coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti ecco chi è che si è sostituito al mio posto ecco il prezzo del riscatto Cristo Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato nel mondo oggi vengono presentati tanti mediatori tanti intercessori ma la Bibbia dice che uno solo è il mediatore uno solo è l'intercessore Gesù uomo al di fuori di Cristo non c'è salvezza e l'insegnamento che riceveva dal santuario l'israelita era proprio che il suo sostituto era il Messia colui che si sarebbe sacrificato che avrebbe gustato attraverso la morte la vita per ognuno di noi quindi lui che si sacrifica al posto nostro in Pima Pietro capitolo 1 versetti dal 18 al 20 Pietro ci ricorda che non bastavano tutte le ricchezze di questo mondo per essere riscattati che sapete quando c'è un sequestro di solito per liberare la persona bisogna pagare un riscatto e chi possiede magari tanti soldi magari con i milioni riesce a liberare magari la persona che è stata presa in sequestro la parola di Dio ci dice che noi eravamo sequestrati dal nemico e Gesù per poterci riscattare Pietro ci dice che non bastavano tutte le ricchezze di questo mondo né oro né argento né pietre preziose ma dirà ma col preziosissimo sangue di Cristo come l'agnello senza difetto e senza macchia quanto è prezioso il sangue di Gesù e quando si cerca la salvezza attraverso le proprie opere miei cari noi svalutiamo quello che è il prezioso sangue di Gesù quando noi pensiamo di ottenere la salvezza con i propri meriti noi stiamo svalutando il prezioso sangue di Cristo Gesù non c'è peggior offesa che noi possiamo recare a Dio quando cerchiamo di ottenere la salvezza attraverso i nostri meriti e allora il santuario doveva trasmettere l'insegnamento che solo col preziosissimo sangue di Cristo Gesù si ottiene la salvezza sempre nell'atrio cioè nel cortile c'era poi quella che è definita la conga di rame contenente l'acqua che cosa rappresenta la conga di rame in esodo al capitolo 30 i versetti che vanno dal 18 al 21 ci sono le misure e c'è praticamente il materiale di cui era composta la conga di rame ma qual è la figura della conga di rame cioè il tipo qui cosa mi vuole dire questa figura Romani capitolo 6 versetti dal 3 al 5 or non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del padre così anche noi possiamo camminare in novità di vita se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua lo saremo anche con la sua resurrezione ecco che allora la figura della conga di rame contenente l'acqua era la figura del battesimo qualcuno dice che il battesimo non salva è vero è la fede in Cristo Gesù che salva ma il battesimo mi permette di ottenere la salvezza perché il battesimo è il patto che io per fede accetto quella salvezza è importante il battesimo miei cari e ci permette anche un'altra cosa il battesimo quello di essere nuove creature cioè la rinascita in Cristo Gesù perché noi stiamo dichiarando al mondo che rinunciamo al mondo per essere nuovi nuove creature in Cristo Gesù e questo era l'insegnamento che riceveva Islaidita essere un nuovo figlio di Dio non più il figlio del mondo il figlio della perdizione ma il figlio di Dio nuove creature in Cristo Gesù in Giovanni al capitolo 4 al versetto 4 troviamo anche un'altra figura che Gesù realizza attraverso il simbolo dell'acqua Gesù viene definito che cosa l'acqua della vita un'acqua che non si esaurisce un'acqua che disseta veramente perché guardate noi possiamo appagare la sete che ci viene quella materiale ma la sete spirituale se non abbiamo Cristo non la possiamo appagare quindi abbiamo bisogno della fonte dell'acqua viva che è Cristo Gesù perché solo lui può appagare il desiderio dell'anima quanto è importante bere l'acqua è vero o no? è mai capitato di rimanere senza acqua e in quel momento incominciare a patire la sete? guarda tu puoi essere affamato magari sì si sta male però essere assetati è molto peggio e noi siamo assetati spiritualmente abbiamo bisogno di Cristo Gesù l'acqua viva l'acqua che non è quella stagnante sapete quella che forma la pozzanghera è un'acqua che scorre dalla fonte ecco che Gesù continuamente ci disseta di quest'acqua di un'acqua viva e quando tu sei appagato di quest'acqua non hai bisogno di più di nulla veniamo al tabernacolo il tabernacolo questo era il tabernacolo che si divideva in due come abbiamo detto prima luogo santo e luogo santissimo era coperto di diverse tessuti e di pelle la prima parte si parla di un rivestimento di pelle di tasso un animale un mammifero e questo rappresenta figuramente parlando di Cristo nella sua umanità poi c'era un'altra copertura che era quella della pelle di montone rosso che rappresenta Cristo nella sua sofferenza poi c'era il pelo bianco di capra che rappresenta Cristo nella sua purezza e c'era poi il lino di torto o azzurro porpora che rappresenta Cristo come re nel luogo santo qui in questo luogo c'era il tavolo con i pani da quest'altro lato c'era quello che è il candelabbro e qui abbiamo un altro altare che era quello dell'incenso dove veniva bruciato l'incenso questo qua vediamo un attimino che cosa rappresentano queste cose in Giovanni al capitolo 8 al versetto 12 noi troviamo la figura del cantelabbro Gesù che si identifica come la luce del mondo questo significa che se non hai Gesù non hai la luce Gesù è la luce del mondo e nello stesso tempo è la luce della parola di Dio nel salmo 119 al versetto 105 come renderà il giovane la sua vita pura camminando attraverso la tua parola Cristo Gesù è la nostra luce Cristo Gesù è il nostro cammino Cristo Gesù è colui che illumina il sentiero non c'è altra luce miei cari al di fuori di Cristo non c'è luce come non c'è salvezza non c'è neanche luce e la figura del candelabro oltre a Cristo rappresenta anche un'altra cosa in Zaccaria al capitolo 4 versetti che vanno dall'1 al 6 si parla della figura dello Spirito Santo la nostra conversione deve essere accompagnata dallo Spirito di Dio quando Gesù parlò con Nicodemo quello che era la rinascita gli disse bisogna che tu rinasca di acqua e di Spirito così anche noi miei cari nel nostro cammino spirituale abbiamo bisogno della luce che è Cristo Gesù che illumina la nostra vita attraverso lo Spirito Santo il nostro cammino deve essere accompagnato dallo Spirito di Dio abbiamo parlato dell'ordine che c'era intorno al santuario e quest'ordine è luce Dio che ordina nella nostra vita che deve mettere ordine perché sapete c'è un po' di disordine nella vita di ognuno di noi e abbiamo bisogno di qualcuno che metta ordine nella nostra vita e questo lo può fare solo lo Spirito di Dio ecco che è importante allora che noi attingiamo continuamente questa luce attraverso lo Spirito di Dio è Gesù che vuole mettere ordine nella nostra vita sapete come può avvenire quest'ordine non facendogli un po' di spazio ma mettendolo al centro della nostra vita se io lascio entrare Gesù completamente nella mia vita allora ci sarà ordine se io ho un bicchiere lo riempio metà di acqua sporca se ci metto acqua pulita sopra diventerà sempre sporca per poter avere acqua pulita bisogna svuotare l'acqua sporca e Gesù questo vuole fare nella vita di ognuno di noi vuole pulire la nostra vita e allora noi dobbiamo fare spazio dobbiamo far sì che lo Spirito Santo possa lavorare nella vita di ognuno di noi e questo era l'insegnamento che doveva ricevere il sacerdote quando entrava in questo luogo perché solo il sacerdote poteva entrare in questo luogo non era accessibile alla persona comune poi abbiamo il tavolo dei pani in esodo al capitolo 25 versetti che vanno dal 23 al 30 abbiamo anche lì le misure e lì praticamente abbiamo anche il materiale come anche il materiale composto dal candelabro era oro oro puro chi e che cosa raffigurano i pani in Giovanni al capitolo 6 Gesù si presenta come il pane disceso dal cielo come la manna discesa dal cielo e Gesù è il pane della vita è il nostro nutrimento Gesù dice chi mangia di questo pane io lo resusciterò nell'ultimo giorno cosa significa mangiare Cristo Gesù certo noi non crediamo nella transustanzazione no cioè che praticamente quando si celebra l'eucarestia l'ostia veramente si materializza nel corpo materiale di Gesù non crediamo questo perché altrimenti sarebbe cannibalismo e allora è un senso che si parla come figurativo e Gesù dice che chi mangia di questo pane cioè chi mangia la sua carne nel senso figurativo significa nutrirci della sua parola nutrirci del suo sacrificio appropriarci di lui ecco Gesù che allora è il pane della vita è il nostro nutrimento miei cari solo in lui possiamo appagare oltre alla sete anche la fame e come possiamo mangiare la carne di Gesù cioè il suo corpo attraverso la parola di Dio questo è il nostro nutrimento Gesù stesso deve dire no non di solo pane vivrà l'uomo ma l'uomo di che cosa deve vivere della parola di Dio e tutti possiamo nutrirci da questo pane dipende da me dipende da te l'altare dei profumi in esodo al capitolo 30 i versetti che vanno dall'1 al 10 troviamo anche lì le misure e anche l'altare dei profumi era rivestito di oro che cosa raffigura l'altare dei profumi raffigura la preghiera l'orazione l'oblazione la preghiera che noi rivolgiamo al nostro creatore questo privilegio che noi abbiamo di poterlo pregare di parlare direttamente con lui attraverso Cristo Gesù perché Gesù è quello che purifica le nostre preghiere e sapete su questo altarino il sacerdote ogni giorno offriva sia la mattina che alla sera incenso profumi questo significa che noi non dobbiamo come dice la parola di Dio non smettere mai di pregare quanto è importante pregare ieri sera parlavamo appunto della preghiera questa potenza che Dio mette nelle nostre mani cioè sulle nostre labbra Gesù stesso ha utilizzato la preghiera per vincere e se l'ha utilizzata lui quanto più la dovremmo utilizzare noi nessuno ti può impedire di pregare neanche con la forza anche se ti tappano la bocca tu puoi continuare a pregare neanche il nemico di Dio che è potente riesce a impedirti di pregare come non ha impedito quelle persone che si era impossessato lui di poter essere liberati da Gesù perché Gesù leggeva il cuore di quella persona e quando lui ha guarito e ha liberato gli indemoniati perché Gesù ascoltava la supplica di quell'anima che nonostante il nemico gli faceva dire le cose opposte il Signore ascoltava la preghiera questo è importante miei cari fratelli miei care sorelle pregare il Signore sempre come si offriva la mattina alla sera Vincenzo significa che mattina e sera noi dobbiamo pregare noi abbiamo la consuetudine di fare il culto mattutino e il culto serale quanto è importante pregare in famiglia essere uniti in famiglia e fare il culto mattutino e serale purtroppo si sta perdendo questa consuetudine e molte volte non si è il tempo di fare il culto per la mattina e neanche alla sera e invece noi dobbiamo trovare il tempo di fare il culto mattutino e il culto serale perché noi mettiamo una protezione intorno alle nostre famiglie quando noi offriamo le preghiere al Signore noi stiamo mettendo una barriera di protezione stiamo invocando l'aiuto di Dio quanto è importante la preghiera l'unità della fede ecco perché è importante come abbiamo detto anche prima l'unità quando si viene in chiesa che si prega tutti quanti insieme formiamo veramente una potenza e Dio ascolta le nostre preghiere quando sono fatte con sincerità quando sono fatte col cuore ecco questo era l'insegnamento che riceveva l'israelita l'importanza della preghiera della comunicazione diretta con Dio qualcuno definiva la preghiera il telefono senza fili un telefono che non si scarica mai un telefono che non costa nulla è gratuito oggi per poter comunicare hai bisogno della sim e si deve fare un contratto si deve pagare per poter comunicare con un'altra persona ma questo telefono è gratuito non si paga nulla è un filo diretto e non c'è pericolo che trovi un'interruzione oppure che magari non c'è linea non c'è campo può essere anche nel deserto in qualsiasi luogo c'è sempre segnale quindi si può sempre utilizzare ed è lì a nostra disposizione quanto è importante la preghiera quante esperienze si fanno e si sono fatte nel passato attraverso la preghiera andiamo adesso nel luogo santissimo andiamo per modo di dire andiamo e qui e qui praticamente troviamo quella che era forse l'arca contenente sopra i due cherubini in esodo al capitolo 25 versetti che vanno dal 10 al 22 ci troviamo le misure e li troviamo anche che come era ricoperta come era rivestita l'arca era tutta d'oro e c'era il coperchio sopra che veniva chiamato il propiziatorio dove c'erano due cherubini uno di fronte all'altro e attraverso i cherubini il sommo sacerdote attenzione perché solo il sommo sacerdote poteva entrare in questo luogo una volta all'anno se in questo luogo il sacerdote poteva entrare tutti i giorni in questo luogo qui poteva entrare solo una volta all'anno e non a mani vuote doveva entrare con le mani in trinze di sangue cioè doveva portare il sangue e in più lui comunicava attraverso poi i cherubini che erano sopra il propiziatorio e lì vedeva la luce di Dio che veniva cioè che viene chiamata la shekinah cioè la luce di Dio e in questo luogo era il luogo del giudizio e il luogo della glorificazione salmo 89 versetto 14 il salmista dice giustizia e diritto formano la base del tuo trono benignità e verità vanno davanti al tuo volto l'arca veniva definita la base del trono di Dio e in questo in quest'arca come scritto in ebrea capitolo 4 versetti dal 14 al 16 poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote che attraverso i cieli Gesù il figlio di Dio manteniamo manteniamo ferma la professione della nostra fede infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità essendo stato lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi escluso il peccato accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno in questo luogo entrava il sommo sacerdote per chiedere la grazia la purificazione del popolo del santuario e noi abbiamo lì il nostro sommo sacerdote che è Cristo Gesù Gesù che intercede per ognuno di noi Gesù che ci fa trovare grazia presso il suo trono e nell'arca c'erano tre cose riposte nell'arca c'erano i dieci comandamenti scritti col dito di Dio c'era la verga di Araonne che rappresenta il sacerdozio e c'era il vaso contenente la manna che doveva ricordare il popolo che per quarant'anni Dio li aveva nutriti nel deserto non con un pane comune ma con il pane degli angeli perché quando si parla della manna si parla del pane degli angeli ecco che allora che cosa ci ricorda il santuario la porta Cristo ci chiama Cristo ci invita ad entrare alla salvezza ad ognuno a chiunque vuole l'altare del sacrificio Cristo che ci ha riscattato Cristo che è morto al posto mio al posto tuo la conga di rame contenente l'acqua vuole farci rinascere Gesù che ci vuole portare a novità di vita il candelabbro vuole illuminare la nostra vita ma come? attraverso lo Spirito Santo la tavola dei pani Gesù che vuole comunicare con noi mediante la sua parola Gesù che vuole che noi ci nutriamo della sua parola l'altare dell'incenso Gesù che purifica continuamente la nostra vita Gesù che purifica le nostre preghiere l'arca del patto la grazia di Dio la glorificazione quella che poi il Signore ci rivestirà della stessa gloria quando Lui ritornerà ecco questo è quello che doveva ricordare come insegnamento l'israelita questo è quello che dobbiamo ricordare oggi noi miei cari Cristo Gesù l'antitipo che ha realizzato ogni cosa questo era la composizione di quello che era il santuario sarà un caso? io credo di no questi erano come gli oggetti erano composti nel santuario questo è lo strumento pedagogico che è servito per il popolo di Israele questo è il nostro strumento pedagogico che il Signore ci aiuti ad ognuno di noi e possa far sì che noi possiamo crescere nella sua grazia e un giorno poter vederlo a faccia a faccia e poterlo ringraziare personalmente dicendo grazie Gesù per quello che stai facendo e per quello che hai fatto nella mia vita che il Signore ce lo voglia congedere nella sua grazia ad ognuno di noi Amen Signore Dio Padre Santo che troneggi nell'alto dei cieli è nel nome di Gesù che veniamo a te grati e riconoscenti per quanto è fatto per noi fino a questo momento in primo luogo che hai dato Gesù a morire per i nostri peccati che attraverso di Lui abbiamo redenzione vita eterna Signore fa che possiamo essere strumenti nelle Tue santi mani fa che possiamo ascoltare i Tuoi insegnamenti e li possiamo mettere in pratica aiuta tutto il Tuo popolo tutte le anime sincere coloro che hanno difficoltà che sono scoraggiati coloro che si sono allontanati dalla fede coloro che si trovano sul letto di malattia fa che possono gustare la Tua presenza e la Tua benedizione e se piace a Te anche la guarigione fisica oltre a quella spirituale Signore noi non meritiamo nulla ma ogni grazia assieme al battesimo del Tuo Santo Spirito te lo chiediamo nel nome di Gesù che benedetti in Eterno Amen rimanendo in santo raccoglimento invochiamo e riceviamo la benedizione del Signore l'Eterno ti benedica e ti custodisca l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te ti sia propizio l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace Amen Buon sabato a tutti